Per quanto riguarda la presenza delle ministre di Italia Viva non mi è stato fatto nessuna comunicazione ufficiale. Ovviamente non sedersi al tavolo istituzionale quando si ha un incarico e quindi una responsabilità di ministro, non venire alla sede dove si discute di tutto, che il Consiglio dei Ministri non sarebbe un fatto da trascurare. Quindi la riterrei un'assenza ingiustificata se si dovesse confermare.